Buonasera ragazzi, oggi andiamo a fare un corso molto importante, oppure un corso importantissimo, il passato prossimo, il passato prossimo, il passato prossimo. Il passato prossimo, 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 il l'amnelli faite inizia il programma terminale c'è un passato prossimo è il coro che è normalmente non è un coro di 2 anni nel coro di 3 anni nel programma terminale l'anno è un coro di 2 anni l'anno è un coro di revisione per la revisione e non è un coro di 2 anni inizia un coro di 2 anni inizia un coro di 3 anni l'asera o l'asera l'asera il calma chi ngul il passato prossimo i anni nexchia il haja ex l'imperfetto quando chi gult l'imperfetto quando ho detto l'imperfetto con chi ngul dima l'aczione precisa non concluza mi racchia il passato prossimo xa nexchia il haja l'ax xa nexchia il l'aczione precisa e concluza xa nexchia il l'aczione عندha inizio عندha bidaia وعندha fini وعندha nihai يعni l'aczione srat fil basi srat ufadat srat ufadat mish kie ngalimperfetto srat ufadat srat ufadat kie ngalimperfetto prečiza عندha bidaia y concluza y concluza عندha nihai يعni srat ufadat kie ngul kie ngul par exemple u mangiato u mangiato una mala u mangiato una mala akeletu xanilga ijeri xanilga un anno un anno fa la forma del passato del passato prossimo kie ngalimperfetto 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 non, la settimana prossima l'anno prossimo, il giorno prossimo questo è un cammin ha avuto il futuro ma il passato prossimo è il passato prossimo questo è proprio per sapere riusciglio la forma del passato prossimo la forma del passato prossimo è l'auxiliare 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 insire o avere l'auxiliare insire o avere al presente o nel presente plus il participio passato il participio passato il participio passato la forma del passato prossimo è l'auxiliare l'auxiliare insire o avere al presente plus più il participio passato il participio passato il participio è il verbo che è un concorso quindi il participio è il formato che è un concorso ok andato mangiare, mangiato ascoltare, ascoltato comprare, comprato, telefonare, telefonato, eccetera بالنسبa, le parti si passate al deuxième group مش rai xangulu eri xad diventa eto, no, diventa uuto يعni مش chiamangulu kajad hedi ari ato hedi xangulu eri eto, no eri, tarja u, uuto per esempio, poteri poteri tarja potuto poteri tarja potuto, doveri dovuto voleri voluto بالنسبa troisième group, li fo dubiri hna jarjo bito diventa no comito per esempio, partire partire diventa partito 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 hedihia la forma del passato del scusa del participio passato yani le parte si passate teana hendi primi group li fo dubiri hay kunubato li fo dubiri hayarjo bito li fo dubiri hayarjo bito hedha le parte si passate regolare yani il participio passato regolare pasco hendi 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 un lista una lista dei participio passati irregolari donc hedumma la forma dei participio passati irregolari hendi una lista l'esemda tafad a memoria parkour li hiya la lista dei participio passati irregolari par exemple l'handi fa ha metà l'enking leggeri leggeri yarja letto per esempio piangere li huwa pluri yarja pianto per esempio per esempio il verbo la 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 passato huehed li huwa stato stato per esempio rispondere rispondere andu il participio passato risposto per esempio rimaneri li huwa rester rester andu rimasto hendi una lista tafad i participio passati irregolari li gult leizem tafad a memoria donk arrafna awelan kif ma jnsttahamal passato prossimo arrafna la forma del passato prossimo wuzidna arrafna la forma del participio passato heidem la forma irregolari la lista irregolari jilazm nafadu haxna a memoria donk l'haja l'arrafo aha wahed ukhra hiya waktah nkonjugi maha la wuziliari issiri waktah nkonjugi la wuziliari averi heidi l'haja li maazem attalami idkaltu faha chwiyya waktah nchot la wuziliari issiri waktah nchot la wuziliari averi hiya ki nchb nchki ana on general on general عندي fil l'verbe عندي iverbi عندي iverbi transitivi transitivi وعندي iverbi intransitivi intransitivi iverbi transitivi hummali sempre hihtaju c-o-d hihtaju le complemento oggetto direttu li verbi intransitivi li mi hihtaju c-o-d li mi hihtaju complemento oggetto direttu allora tutti iverbi transitivi che bisognano per esempio li hihtaju c-o-d utkongjugeu con lausiliari avere e iverbi intransitivi li mihihtajuj c-o-d tkongjugeu com s-re hedi jani on general ki nilga ana lo c-o-d nchot lausiliari avere ki ma nilgash c-o-d adjektiv o l-adverb o l-adverb o l-sisi dutton o l-sisi dutton o l-sisi o l-aytu ahna nchot lausiliari e-sire e-sire uki nchab n-detail aktar hanggul billi li tkongjugeu ma e-sire humma uno i verbi di movimento i verbi di movimento jani li verbi li fih movmo fih kim magulu haraka ahna naxki per esempio hla andare andare il verbi di movmo il verbi di movimento und kongjugeu hana imha lausiliari e-sire naxki per esempio hla arrivare naxki e-la vinire tornare entrare per esempio giungere giungere salire per esempio per esempio anche il verbo rientrare rientrare eccetera jani li verbi li fih movmo humma it conjugeu tujur ma lausiliare e-sire pasco automatikmo li verbi fih movmo i verbi di movimento me conjandho c-o-d i verbi i verbi di cambiamento di stato i verbi di stato i verbi di stato di cambiamento di stato per esempio per esempio riflessive come come jomapeel anna ismi donk il fih lausiliare essi di verbi riflessive li li verbi pronomino basahumma yitconjugeu ma avere per esempio ki nahkye anna alverb dormir dormir malgare naqdru o-dormito o-dormito jani o-dormito mixtash c-o-di jani verb intransitivo basahumma yitconjugeu ma avere o-dormito manguul shon o-dormito o-dormito per esempio hindi ilverb leader hindi ilverb leader hna kif-kif hattari leader malgare verbi intransitivo basah yitconjuge ma avere ma yitconjugeu ma essere hindi per esempio ilverb lavorare travail lavorare kif-kif malgare verbi intransitivo basah huwa yitconjuge ma avere jadum halad istithnaya jani homma malgare iverbi intransitivi ma yitconjugeu jani ma and homma yihtajush le si o-dime yitconjugeu konnawziliare averi heduhumma lulaid kif ma huqtah nconjugeu ma esseri huqtah nconjugeu ma averi imbiad hanahkii alha anzir wahda khur li huwa palizempio handi hana palizempio hanconjugeu ilverb mangiare wuhna hanconjugeu ilverb andare mangiare ha o mangiato ay mangiato a mangiato avete mangiato ed è la forma del verbo al passato prossimo con ausiliare averi abbiamo abbiamo mangiato e hanno hanno mangiato hada verbo mconjuge ma la ausiliari averi ruj ldruk l'andali hangul sono andato will andata sei andato will andata e andato will andata siamo andati will andate siete andati andate 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 o la a o la a o e il pluriel ha di i o la e questa è la concordanza la concordanza la concordanza che è la concordanza? la concordanza è che il participazione che ha avuto con l'ausiliare il sere si accorre con il sere con il gioco il nome che ha avuto il vero con l'ausiliare il sere che ha avuto l'adjectivo che ha avuto l'adjectivo l'adjectivo s'accord con il sere con il gioco il nome quindi la concordanza la concordanza è che il participazione si accorre con il sere con il gioco il nome supposiamo che ho avuto Paolo per esempio Paolo è un dato perché è un maschile singolare quindi Paolo è un dato che ho avuto l'a sono un dato che ho avuto l'adjectivo io e un barco io e una non so se fosse un maschile o femenile singolare non so se fosse un o slash a questo è quello che ho avuto con la concordanza non so se fosse un maschile singolare non so se fosse un maschile singolare e non so se fosse un maschile singolare non so se fosse un maschile singolare non so se fosse un maschile singolare ma è un maschile singolare c'è un'altra lista dei participi passati irregulari che bisogna affidare a memoria a rifna i verbi transitivi li xhtajut xiyo di itconjigo maha a veri o li intransitive li mixtajut xiyo di itconjigo maha a veri warrafna i verbi di movimento i verbi di stato di cambiamento di stato i verbi riflessivi itconjigo maha a veri o gandi kèlkinku verb kèlkinku verb homma kèlkinku verb homma intransitive besaha itconjigo maha a veri uzadna a chufna maha bradana la concordance ha gulna billi il verbi maha a veri non si accorde, non si accorde. Non si accorde con l'ausiliare. Ma con l'ausiliare, il sere sempre il sereo il participato, si accorde con il sereo con il giro e il numero. C'è una femina, c'è una femina, c'è una pluriale, c'è un pluriale, e tutto. Ho una domanda che mi piace per me metto a tutti i elevi, che ho detto, che ho detto 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 C'è 4 verbi. C'è un verbo Cominciare Cominciare Cambiare 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 Passare Finire C'è un verbo C'è un verbo non si accorde con l'ausiliare con l'ausiliare con l'ausiliare C'è un verbo C'è un verbo Finire C'è un verbo 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 C'è un verbo